abbiamo iniziato oggi a girare il mio viaggio in italia abbiamo girato qualcosa in questa stanza poco minuti fa che era incredibile questa piccola stanza di 25 metri quadri era piena così però non possiamo dire niente per non rubinare la sorpresa se volete sapere eventualmente ci troviamo a novembre su rai 2 hasta luego